FESTEGGIAMO I QUASI 30 ANNI DALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL NOSTRO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO, un'iniziativa molto importante per l'ambiente, pensata diversi anni fa, che nel corso del tempo ha subito una serie di aggiornamenti tecnologici e oggi è sicuramente un impianto ancora all'avanguardia, poiché è l'unico, fino a questo momento, che ha una componente di solare termico. In futuro, grazie anche a questa transizione ecologica che il Paese sta affrontando, sarà uno di quegli interventi su cui la città investirà, poiché oggi sono servite circa 11.000 utenze equivalenti, ospedali, case di riposo e quindi rappresenta un aspetto importante tecnologico che deve essere costantemente adeguato, modernizzato per far fronte anche alla situazione energetica che stiamo vivendo in questo periodo.